è uno dei più grandi combattenti che siano saliti sul ring. Lo chiamano il Notorious e l'uomo dal pugno letale. Parliamo di Conor McGregor. Sembra che trascorrere oltre un decennio dominando il ring ti permetta di accumulare una notevole fortuna e i 180 milioni di dollari di patrimonio netto di Conor McGregor non sono arrivati facilmente. Ossa rotte e sogni infranti hanno più che contribuito a finanziare il suo lussuoso stile di vita. Oggi daremo un'occhiata ai suoi beni più preziosi. Un elegante yacht da 3,9 milioni di dollari realizzato dalla famosa casa automobilistica italiana Lamborghini. Ma prima ricordati di iscriverti al canale e di attivare la campanella per non perdere i prossimi video. Conor McGregor può essere definito un collezionista. Colleziona lividi, auto di lusso, ossa rotte e milioni di dollari per prendere a pugni i volti delle persone. Ora sembra che stia iniziando la sua collezione di yacht con uno splendido yacht multimilionario soprannominato la Supercar del mare. E decideremo se l'avventura della Lamborghini in mare vale un prezzo così alto. Nel 2020 il produttore italiano di auto Lamborghini ha creato auto così belle da essere presenti in ogni film famoso. Da James Bond a The Dark Knight. Ha collaborato con The Italian Sea Group e ha annunciato la nascita della Tecnomar per Lamborghini 63, il loro nuovo modello di yacht di lusso. Il 63 non solo si riferisce all'anno in cui è stata fondata Lamborghini, ma anche al numero totale di barche prodotte. Perché come tutti i migliori veicoli di lusso, anche questo è in edizione limitata. Dopo un paio di mesi dall'annuncio dell'uscita dello yacht, McGregor ha firmato per averne uno. E in poco tempo il suo sogno è diventato realtà. Il suo yacht da 3,9 milioni di dollari è arrivato. Originariamente costava 3,4 milioni di dollari, ma sono stati aggiunti circa 500 mila dollari per dare quel tocco McGregor in più. Lasciatemi cominciare dicendo l'ovvio. Questa super barca ha il marchio Lamborghini scritto ovunque e non sto parlando solo degli emblemi. La Lamborghini Tecnomar è fortemente influenzata dai gloriosi veicoli del passato di Lamborghini. Il volante è ispirato alla Lamborghini Sian. I sedili che ti fanno sentire come se fossi nell'abitacolo di un jet da combattimento, sono ispirati alla Lamborghini Sto. Perfino il suo pulsante di accensione automatica è ispirato ad altri modelli Lamborghini. Ma non è tutto. Questa barca è piena di riferimenti ad altri modelli. Stefano Domenicali, presidente e CEO di Lamborghini, ha persino detto, se dovessi immaginare una Lamborghini sull'acqua, questa sarebbe la mia visione. Ecco come si rende omaggio a 63 anni di genialità. Sarebbe deludente se le somiglianze fossero puramente estetiche. Ma stiamo parlando di Lamborghini, quindi capite che questa barca va anche veloce. La Tecnomar monta due motori V12 da 2000 cavalli che ti implorano di spingerli al limite. Puoi raggiungere facilmente una velocità massima di 60 nodi o 110 km all'ora, specialmente in mare aperto, dove non ci sono macchine o persone che rallentano la corsa. La Tecnomar viene fornita con un serbatoio da 3600 litri, che ti permette di navigare per quasi 400 km, dando il tempo di fare qualche giro in acqua prima di dover fare rifornimento. Ha un display digitale progettato per fornire al pilota informazioni vitali, come i dati di navigazione, la temperatura e l'umidità, portando a un altro livello il comando, per dare la sensazione di pilotare un caccia. È lunga solo 19 metri e pesa 24 tonnellate, ma Lamborghini è riuscita a rendere ogni parte altrettanto lussuosa. Ma non finisce qui. Oltre a permettere ai clienti di scegliere il colore del loro yacht, la Tecnomar 63 offre anche tre diverse disposizioni di interni, viziandoci letteralmente con la scelta. La versione lounge è dotata di un bagno privato e offre uno spazio aperto di dimensioni irragionevoli, con divani, una cucina e un armadio. La versione con cabina singola possiede una cabina abbastanza grande da contenere un letto king size, una cucina e un bagno privato. L'ultima opzione offre una cabina doppia, con cabine separate, una con un letto king size e l'altra con due letti singoli, adatta per gli ospiti. Nel 1968 il fondatore Ferruccio Lamborghini fece il primo passo in acqua convincendo il costruttore di barche Carlo Riva a montare uno dei suoi motori sulla barca Riva Acquarama, creando una bestia del mare in grado di raggiungere una velocità massima di 88 km orari, rendendola la barca più veloce mai costruita all'epoca. Inutile dire che Lamborghini ha fatto molta strada da mezzo secolo fa e Conor McGregor non aveva intenzione di lasciarsi sfuggire questo capolavoro. Ma McGregor possiede anche altri yacht. Dopotutto ha sempre avuto un debole per le barche e per il mare aperto. Chi non lo ha? Dopo aver ricevuto il suo massiccio stipendio dal suo scontro estenuante con Floyd Mayweather, è uscito a festeggiare e si è comprato uno yacht, delle moto d'acqua, un Volkswagen personalizzato e si è diretto verso il mare. Ha chiamato la barca 188, in memoria dell'importo in euro che riceveva quando era ancora assistito sociale, prima di iniziare a distruggere avversari sul ring. Più tardi ha regalato il 188 a suo padre. Non è rimasto senza barca per molto tempo. Nel 2019 ha postato un video sulla sua pagina Instagram in cui ordinava lo yacht Prestige 750, da 3,4 milioni di dollari. Questo yacht è una meraviglia marittima di 22 metri, che combina il savoir-faire francese, la tecnologia all'avanguardia, l'estetica italiana e caratteristiche di design uniche. Ribalta i codici di design tradizionali e offre nuovi livelli di comfort, che è un modo elegante di dire che è uno yacht davvero incredibile. Lo yacht a motore è stato progettato per portarti in mare e tenerti lì, ignorando tutte le responsabilità che vengono con la terraferma. Che tu sia in acque libere o all'ancora, gli spazi vivibili a bordo, l'ampio pozzetto e un'immensa terrazza ti faranno girare la testa. Lo yacht offre uno spazio abitativo intimo con accesso privato, un ampio guardaroba, una grande scrivania e un vano doccia indipendente. Non sorprende che Conor McGregor abbia guidato questo yacht fino a Fight Island per affrontare Dustin Poirier a UFC 257. Finora, questa è la collezione di yacht di McGregor, anche se ha avvistato un altro yacht che dice di avergli fatto venire la cuolina in bocca. Si tratta dell'imbarcazione di proprietà del miliardario russo Andrei Melnichenko, un mega yacht di 142 metri, che costa circa 400 milioni di dollari. Un vascello abbastanza bello da ispirare McGregor a prendere qualche altro pugno, così un giorno sarà lui a far venire la cuolina in bocca alla gente con la sua bellissima barca. Se hai apprezzato questo video, lascia un like e iscriviti al canale per altri video sull'incredibile mondo del lusso.